Musica Salutiamo i nostri ascoltatori, ben trovati a questo appuntamento con Pomeriggio con noi, subito sulle prime pagine delle testate online, insieme aggiorniamo le notizie della mattinata. Cominciamo con la testata Lucca in diretta, si parla del futuro della GESAM e gara del gas, all'ordine del giorno bipartisan che auspica dibattito in commissione e consiglio comunale lucchese sempre aggiornato. No del Movimento 5 Stelle, prima vi accusate, poi lo votate insieme. Da Lucca in diretta andiamo sulla testata allo schermo, vediamo l'aggiornamento delle notizie, Consiglio straordinario su GESAM, i 5 Stelle dicono no all'ordine del giorno condiviso da tutto il Consiglio Comunale. Messa in sicurezza dei canali RUVA e BARGA, 275 mila euro di fondi che arrivano dall'Europa. Guardiamo qualche particolare in più su questa notizia. Qui vediamo un momento dei lavori a Gallicano. Grazie a 275 mila euro dell'Unione Europea, si mettono in sicurezza i canali RUVA e BARGA. Le opere sono in fase di completamento. Andiamo ora sulla cronaca online del Tirreno, edizione versiliese, investita sulla bicicletta down out. Sulla bicicletta è grave una donna, l'incidente è avvenuto intorno alle 6 di stamattina, venerdì. La ciclista è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Versilia. Sul posto, oltre all'automedica naturalmente, sono intervenuti i carabinieri per il rilievo. Poi la farmacia del Pontile di Lido diventa un low cost. Vediamo qualche particolare di questa notizia. L'attività è stata rilevata all'asta dalla Penta con punti vendita in Polonia e Svezia. Il gruppo Dottor Max proporrà farmaci a prezzo ribassato, salvi tutti i posti di lavoro. Questa è la foto della farmacia che si trova sul Viale Colombo a Lido di Camaiore. Sarà un nuovo concetto di farmacia, avrà prodotti di qualità a basso prezzo, almeno da quanto viene comunicato sul sito ufficiale di Dottor Max. La catena di farmacie che arriva anche a Lido di Camaiore. Da poco, infatti, la farmacia che si trova davanti al Pontile di proprietà di Liliana Lardù è stata acquistata all'asta da Penta, un'azienda che gestisce numerose farmacie in Svezia, Polonia e anche nella Repubblica Ceca. Sempre sul sito online del Tirreno, vino adulterato nell'inchiesta coinvolto, anche un viareggino. Maggiori particolari, li leggiamo sul Tirreno in cronaca versiliese, la cronaca online del Tirreno, il vino di bassa qualità, nocivo per la salute, dopo essere adulterato, veniva imbottigliato in un'azienda agricola di Empoli. Prima udienza per il prossimo 5 aprile, così ha deciso il giudice dell'indagine preliminare Frangini del Tribunale di Firenze, per nove indagati nell'inchiesta della DDA di Firenze, Pubblico Ministero Giulio Monferini. Vediamo qual è il viareggino. Antonio Giglioli, di 57 anni, è tra coloro che compariranno davanti al giudice dell'indagine preliminare per spiegare la loro posizione. Il vino di bassa qualità, nocivo per la salute, è stato detto dai carabinieri, dopo essere adulterato, veniva imbottigliato in un'azienda agricola di Empoli, già inconcordato, dove poi, così l'accusa, erano apposte false etichette, chiedo scusa, prima di inviarlo nei depositi del Lazio e dell'Emilia Romagna, facenti capo a una ditta di import-export. Dal Tirreno Online, edizione versilesi, andiamo su quella lucchese, Palazzo Bertolli, asta in primavera, ipotesi parcheggio sotterraneo. Siamo a Lucca. A giugno le cartiere Tronchetti avevano manifestato il proprio interessamento, subordinandolo alla risoluzione del problema delle aree di sosta. Così il Comune ha studiato una nuova opzione. Questa è la foto. Vendita dell'ex guardia di finanza. In primavera la nuova asta, tra gli interessati, le cartiere Tronchetti. C'è ipotesi del parcheggio sotterraneo in piazza Risorgimento a Lucca, a servizio del privato, ma non solo. Tale infrastruttura potrebbe estendersi sotto tutta la piazza ed essere messa a disposizione del pubblico. Questo è quello che si legge sulla cronaca del Tirreno Online, edizione Lucca di oggi. Sempre sul Tirreno Online, le fiamme gialle sequestrano denaro e beni a due imprenditori lucchesi per oltre 3 milioni e 7. Ancora un approfondimento sulla notizia che ormai risale all'altro ieri. Poi un operaio trovato morto in casa a soli 38 anni. Anche questa è una notizia di ieri. Ci sono gli approfondimenti sul Tirreno Online. E poi andiamo a vedere Lucchese di Vorno. Il derby finisce in parità. Vediamo qualche dettaglio in più su questa partita che si è disbutata al Porta Elisa e che è finita 1-1 tra i rosseneri e gli Amaranto. Il gol nel primo tempo di Bortolussi è vantaggiato su un discusso rigore assegnato dall'arbitro. La polemica, naturalmente, la partita si è giocata lo scorso 22 gennaio. La polemica viene ulteriormente ripresa oggi dalle croniche online del Tirreno. Andiamo sulla Nazione. Online, in cronaca di Lucca, migranti doccia negli spogliatoi delle donne. L'impianto di Sant'Anna è nel mirino dei ladri e dei tepisti e i migranti fanno la doccia negli spogliatoi delle calciatrici. E' questa qua la notizia. Non se ne può più, dico davvero. E' quasi senza parole Marco Chiocchetti, presidente della CF Lucchese, la squadra di calcio femminile che milita nel campionato nazionale di Serie B. Il campo di allenamento delle ragazze, l'impianto comunale di Via Matteotti a Sant'Anna, a Lucca, dove si trovano anche atleti di altre società dilettantistiche e cittadine, è stato ancora una volta preso di mira. Furti, danneggiamenti, vandalismi. E da ultimo, persino due estracomunitari che senza pudore né preoccupazioni sono stati trovati a fare la doccia negli spogliatoi delle donne. Le ragazze della Lucchese ora hanno davvero paura. Sempre sulla cronaca online della Nazione, edizione lucchese, vediamo se ci sono altre notizie. Riciclaggio, l'abbiamo visto poco fa, sequestrati i beni da guardia di finanza, Di Maio fa tappa a Lucca, elogio alle aziende del territorio. Andiamo sulla cronaca di tgregione.it, vediamo le notizie della Versilia. Ovunque andrai vince il Festival di Burlamacco che si è tenuto ieri sera e conclusa a luna al Teatro Politiama. Sarà la canzone ufficiale del Carnevale. Serata da Sold Out, ieri sera il Politiama ha gravito a livello simile a vincere il Festival di Burlamacco e la canzone Ovunque andrai. Abbiamo detto, e stasera nel nostro telegiornale la sentiremo naturalmente, ecco qua un momento della festa e della vittoria. Ovunque andrai, cantata da Cristian Grossi e Alberto Martinelli. Sempre sulla testata online di tgregione.it vediamo le altre notizie della mattinata. Piazzone, nuovo appello di confesercenti all'amministrazione per sollecitare il bando. Poi Burlamacco e Undina in passeggiata. No, erano i giornalisti di Striccia la Notizia, di Canale 5. Quale propaganda per Viareggio? Poi Azimut Benetti, la preoccupazione dopo che il sindacato si è pronunciato sul possibile trasferimento di sei impiegate del settore amministrativo di Azimut Benetti da Viareggio a Livorno. Anche il Partito Comunista della provincia di Lucca interviene e condanna lo spostamento a Livorno delle sei dipendenti. Cade dalla bicicletta, urtata da un'auto, grave una donna. Poi la menzogna della razza, conferenza alle scuderie nella giornata della memoria a Seravezza. La menzogna della razza, conferenza alle scuderie Borbone a Seravezza nella giornata della memoria, prevista per domani, sabato 27, giornata eccetera eccetera. Poi all'anagrafe antifascista, tante adesioni, anche quella dell'ex CT del Mondiale del 2006 in Germania, Marcello Lippi. E infine la nostra testata, Noi TV, soldi dal fallimento per comprare ville, due denunce a Lucca. Le fiamme gialle, sulla nostra testata, Noi TV.it, la fiamma gialle, hanno denunciato due imprenditori lucchesi del settore della plastica, per riciclaggio e autoriciclaggio. E poi le mura, esona il coach Loris Barbiero, squadra affidata a Giulio Bernabei. È tutto per questa prima parte, tra poco la seconda parte di pomeriggio con noi, con l'ospite in studio. Seconda parte di pomeriggio con noi, salutiamo coloro che soltanto ora si sono messi all'ascolto della nostra trasmissione, e salutiamo il nostro ospite, Mario Bindi, il polpo della Darsena, da tutti conosciuto per la sua intensa attività legata al carnevale, non solo il carnevale della Darsena, ma anche al carnevale. Poi il responsabile, fondatore di una compagnia teatrale che si occupa sia dello spettacolo dei bambini che dello spettacolo dei grandi, e parliamo del Darsena Show. Allora, intanto c'è un evento che va festeggiato quest'anno, perché sono 30 anni da quando è stata ideata la maschera del polpo, che è la maschera ufficiale del carnevale d'Arsena, e quest'anno si celebra. In che modo? In che modo? Innanzitutto ho un vestito nuovo di zecca che proprio domani verrà, per l'apertura del carnevale, verrà sfoggiato, fatto da due cari amiche, la sarta Eliana e la sarta Susanna, e moglie del compianto Giampaolo Puccetti che ebbe l'idea, circa appunto 30 anni fa a Precisi, di dire dai, vestiti te da polpo che c'hai la struttura, e lì l'esordio fu ancora più bello, perché la prima volta che lo misi fu alla Rai, quando ci s'andò col compianto Tony Filippini, col compianto Pierino Ghilarducci, e praticamente fu veramente una grossa soddisfazione, semplicemente perché è un po' il mio alter ego, cioè io le fotografie le ho sempre odiate, però quando sono vestito da polpo col mio canino Snoopy, allora divento anche per me stesso fotogenico, quindi il polpo è, pensate, la quinta versione dei vestiti, perché ovviamente ingrassi, dimagrisci, a un certo momento, e poi si logora perché ti ci tirano di tutto, però niente, sono tutti gelosamente custoditi, perché è una cosa alla quale tengo, tanti dicono in maniera un po' secondo me sciocca, Mario ma non ti sei stancato a vestire da polpo? E la mia risposta è semplice, ma come si fa da darsenotto a stancarsi del polpo? È come se chi fa burlamacco si stancasse di vestirsi da burlamacco, ma perché? Perché è una cosa in cui ci credo, è un modo anche per essere sempre presenti, laddove mi chiamano in qualsiasi modo, con i bimbi, da solo, con la compagnia Carneval d'Arsena Show, e non a caso si chiama Carneval d'Arsena Show, a un certo momento io mi esibisco in questa maniera, perché? Perché ci credo, perché ci credo che sia un punto di riferimento, è una maschera, ma le maschere... Tra l'altro quest'anno, ricordiamo il Carneval d'Arsena, addirittura cinque serate, festeggio cominciando dal venerdì 9 febbraio. Certo, e anche lì sapete che dall'anno scorso c'è una nuova dirigenza, io ci sono voluto, se vogliamo, io voglio dire, sono consigliere appunto da 30 anni, eccetera, con diverse mazioni, ho fatto il cassiere, ho fatto amministratore, poi ora mi occupo un po' delle cose collaterali, diciamo faccio il polpo, mi occupo sia e queste cosette, e poi quello che c'è da fare, e quindi c'è una nuova dirigenza, definiamola così, e quindi è il secondo anno gestita, diciamo da questa nuova dirigenza, che veramente per grande attaccamento è riuscita ad avere dei giovani, dei giovani peraltro acculturati, professionalmente anche validi, perché chi fa l'avvocato, chi fa il farmacista, voglio dire, chi è amministratore di un'azienda grossissima di marmo, per cui a un certo punto cerchiamo di capire come nel Palio di Siena anche i grossi amministratori, poi in quei momenti, fanno cose di tipo goliardico, storico, eccetera, anche nel Carneval d'Arsena, noi si crede che non sia esclusivamente un piatto di riso o una sagra gastronomica, ma intorno ci possa girare tante cose, tra cui anche il Carneval d'Arsena Show, che ripeto, non a caso, da quattro anni, porta il nome, Carneval d'Arsena Show. e parlando sempre di Rione, abbiamo detto che quest'anno sono cinque le serate della grande festa e ci sarà anche la carretta aggregativa che peraltro sfilerà anche sui viali a mare in occasione del Carnevale. Certo, la carretta aggregativa prima si chiamava mascherata, ecco, noi fortissimamente vogliamo anche questo e cerchiamo di dargli in qualche modo un significato anche per quelli che sono i nostri ideali. In particolare c'è tutto questo discorso e D'Arsena è soltanto una sagra e poi ci sono Briai, eccetera, allora abbiamo chiamato la carretta Letto Briai Sobrietà, con la quale io partecipo ovviamente come polpo, non ho il vestito degli altri perché sono il punto di riferimento, non Bindimario, perché la mascherata la gestisce Simona Corsi ed altre persone che sono veramente appassionate in questo. Però, ecco, lega un pochettino tutta questa realtà, diciamo, rionale. Io ci ho messo del mio insieme a un caro amico che veramente sta diventando il mio primo collaboratore, che è Andrea Pinucci, con il quale abbiamo stilato. Si fa una canzone, come ho fatto l'anno scorso, su Calimero, quest'anno abbiamo intitolato proprio la canzone a letto Briai, con un significato proprio, signori, la frase, il live motive è sì, sì, la coppa di champagne si canta, lo sai, ma Briai, o mai? Cioè, un legame fra la champagne che può essere oggetto, diciamo, di ubriacatura e quindi di danno, diciamo, alla coppa di champagne che deve essere cantata a una maschera che può, dice la tetele, al limite è un poncino, ma perché il freddo, perché un po' di allegria è giusto che ci sia, ma che questo non degeneri mai in qualcosa che di carnevale non ha assolutamente niente. E che rovina, peraltro, anche il cervello dei nostri ragazzi. Ma certamente, rovina il cervello, ma poi, chi organizza, e poi si vede, ovviamente, violentato, proprio, userei questo termine, la propria fantasia, il proprio impegno, la propria abnegazione per cose che non hanno assolutamente senso, voglio dire, in effetti, è una cosa che va, ma non denunciata e basta, cioè, semplicemente vissuta in un'altra maniera, trasmesso che si può bere qualcosa per diletto, per necessità, o freddo, che ne so, per essere un attimino sopra le righe, ma la maschera, dice la canzone, il mascherone ci guarda, voglio dire, da lassù, perché io, lui beve, tu bevi, invece io mi diverto. Esatto, bello il messaggio che esce fuori, ragazzi, l'alcol e le sostanze non fanno altro che rovinarvi la vita, lì per lì, forse qualcuno crede di avere un momento di euforia e di sentirsi più portato verso le ragazze, più portato verso una certa forma di esibizionismo, però è chiaro che alla fin fine i danni sono notevoli. Mario, abbiamo parlato poco fa del Carneval d'Arsena Show che quest'anno naturalmente torna puntuale e come ho detto all'inizio in due diverse iniziative. Allora, noi siamo, già il Carneval d'Arsena Show, come dico io, nato dalla mia mente malata sulle scenerie del gruppo teatrale d'Arsena che fu fondato tanti anni fa da Antonio Tomei, mio maestro, veramente, è una persona che mi ha sempre incoraggiato. Per il quarto anno consecutivo, già il primo anno feci questa doppia diciamo, questa doppia rappresentazione. Il primo anno con uno spettacolo che si ritornava Questa è il viareggio di Mario Bindi e Antonio Tomei, soprattutto fatto dai bimbi, quest'anno invece la canzonetta dei bimbi fatta alle 17 di domenica si intitola Giosalpino il Folletto via Reggino. È una canzonetta d'autore, perché? Perché la sceneggiatura è vero che è mia, però è tratta, liberamente tratta da un libro di una grande persona per me, per Viareggio, che è Franco Anichini. Quindi esiste il libro, esiste la canzone che io feci su sua richiesta e portata nelle scuole, ora esiste la sceneggiatura, peraltro corredata anche da delle coreografie di due persone, una grande amica e che ha sposato questa causa di aiuto che è Beatrice Cinquini della BC School Dance. Conosco il soggetto. Esatto. E poi un'altra persona che ho conosciuto attraverso Franco Anichini che è un ballerino professionista e che è tornato a Viareggio nella sua città natale che è Alessandro Viviani. Ecco, quindi diciamo abbiamo che questi 42 perché si parla di 42-45 bimbi diciamo sul palco che fanno di tutto cioè recitano, cioè cantano, cioè ballano. Alcuni, la maggior parte sono tutti nell'orbita di quello che è la mia attività primaria che è diciamo il servizio alla Chiesa Cattolica alla Parocchia di Santa Rita e poi tramite oratorio tutta la parte diciamo teatrale e musicale che va a dire ai ragazzi il servizio bellissimo parte da qui bene conosciamo la città amiamola e cerchiamo di tirar fuori quelle che sono le nostre diciamo le nostre doti chi vuol cantare chi vuol recitare e chi vuol danzare ecco in grande veramente con grande generosità da parte di Alessandro Viviani e soprattutto di Beatrice la quale a un certo momento in questo modo dice dai Mario una particina anche in quella dei grandi ecco ecco con la sua bellissima sua figlia e bravissima Aurora che di qua balla di qua ci aiuta la sera ci aiuta mentre la mamma recita dietro le quinte vedete è tutta una cosa che ma non è fatta per sfoggiare un qualcosa io bisogna che lo dica questo qui perché con tutti i miei difetti per l'amor di Dio io sono a volte ma è dovuto alla passione anche se si rischia a volte di fare dei danni però a un certo momento a me è stato donato tutto questo da persone in passato e io lo voglio ridare a questi ragazzi tutto preciso perché io ho 55 anni ma quando sono con loro lo dico sempre sono minorelle quindi alle 17 lo ricordiamo per i bambini il Giosalpino il Folletto Viaregino sceneggiatura del nostro ospite Mario Bindi e come ci ricordava liberamente tratto da uno scritto del professor Franco Anichini che colgo l'occasione per salutare perché anche se è un grande carnevalare appassionato di questa manifestazione abbiamo più una manciata di secondi però alle 21 c'è un altro esatto che è la canzonetta che da 4 anni noi facciamo con un cast pressoché totalmente cambiato per scelte fatte da fatte da altri ma qui non voglio dire non mi fermo mica mai non c'è problemi ci sono 60.000 persone a Viareggio da poter fare recitare quindi poi ecco quindi alcuni amici diciamo si sono avvicinati in particolare veramente la forza mi è stata data diciamo di ritrovare una nuova compagnia da parte di due amiche che sono la Lorella e la Monica praticamente che la sera dice dai Mario rifacciamo continuiamo dov'è il problema si cambiano anche queste cose e poi in particolare anche da Andrea Pinucci e dalla diciamo Martina Laurenti che è la sua che è la sua compagna che ha detto vai cerchiamo di allora abbiamo cercato diciamo alcune scenette no? cioè abbiamo fatto un collage di scenette di diversi autori e in particolare Maria Urso che è dei geriatrici Salmastrosi insieme a Enzo Cupisti praticamente che lei scrive proprio strettamente in via regina quindi sono personaggi eccetera sono quattro scenette di Andrea Pinucci e una in collaborazione con la compagna Martina e poi una di Maria Vittoria Nardini altro personaggio che anche se abita a Massarosa ma è via regina gli piace le maschere regionali abbiamo fatto questo collage unito tutto da un piccolo piccoli cammei scritti da Andrea Pinucci e siamo riusciti a fare questa questa canzonetta per mantenere per mantenere la tradizione voglio dire è proprio come manifestazione collaterale del Carneval d'Arsena cioè io sono fuori del Carnevale l'anno scorso c'ero nel mezzo ci posso essere dopo ma il Carneval d'Arsena ricordiamoci non è non è una realtà confusionaria di Sagra e di Briai è una realtà che cerca anche di portare la parte artistica di portare la parte la parte musicale avevo la canzone anzi avevo due canzoni al festival una nel cd e un'altra anche portata in finale io sempre comunque con la bandiera della d'Arsena al collo e ci credo non ci posso fare nulla ma mi sembra giusto e i risultati che arrivano proprio da questo entusiasmo alle 21 sogno di una notte di mezzo Carnevale di quale giorno? dunque domenica al festival auditorium del Puciniano regia di tutto questo collage di Andrea Pinucci io punto di riferimento il polpo della d'Arsena eccetera tantissimi attori ho già detto Enzo Cupisti e Maria Urso veramente dei personaggi Beatrice Cinquini che fa anche se un'apparizione ma la fa vestita in una certa maniera ed è buono ed altri ed altre veramente persone che meritano veramente la semmerata di no no dobbiamo chiudere purtroppo Mario abbiamo usato la spazio a nostra disposizione quando si parla di queste cose ci lasciamo trasportare e sforiamo anche quello che prevede il parizzesto Mario in bocca al lupo allora per questo spettacolo in bocca al lupo per le 5 serate le carneval d'arsena e in bocca al lupo e complimenti per i tuoi 30 anni del polpo della darsena noi ci vedremo puntuali vi ricordo domani pomeriggio a partire dalle 16 giù di lì la diretta dalla piazza Mazzini per il primo corso mascherato che calerà il sipario con i fuochi d'artificio grazie e buon proseguimento di giornata arrivederci a partire